E' stato uno degli stand più visitati della 52esima edizione del Vini Italy di Verona. Cantina Due Palme rappresenta migliaia di persone, migliaia di ettari di terre, milioni di bottiglie di vino e un solo brand, la Puglia. E' una cooperativa che associa, che raggruppa mille soci viticoltori, 2500 ettari vitati, dislocati su 18 comuni limitrofi, a cavallo tra le province di Lecce, Brindis e Taranto. I nostri vitigni autoctoni, come il Negro Amaro, il Primitivo, la fanno da padrone. Anche la nostra cantina di Lizzano, che è situata nella Doc Manduria, produce il nostro, dove produciamo e si imbottiglia il nostro Doc Manduria San Gaetano. Stanno davvero spopolando, sono apprezzatissimi in Italia e in tutto il mondo. I nostri soci viticoltori, insieme a tutto lo staff, insieme al nostro presidente, sono i veri protagonisti delle cantine Due Palme, che è stata fondata dal suo presidente nel 1989. E' una storia straordinaria quella che entra in queste bottiglie di vino, la storia di un riscatto. Qui dentro ci sono le uve del Salento, l'aglianico e il primitivo, le grandi uve. Primitivo e aglianico rappresentano per il Salento soprattutto quella che è la storia contadina, fatta veramente di grandi sacrifici, che siamo stati oppressi per tanti anni. Oggi aglianico, primitivo e negramaro rappresentano l'emblema del Salento, la Puglia che sta facendo esplodere il settore vinicolo e che stiamo conquistando i mercati mondiali. Primitivo, aglianico, negramaro e nero di Troia stanno conquistando il mercato mondiale. Se fosse una musica sarebbe un inno alla gioia e con questo vi salutiamo. Brindisi, grande auguri.